La piattaforma di investimenti online 2139 Exchange, che prometteva guadagni sicuri nel lungo periodo, si è rivelato un miraggio per molti investitori. Un alert, in tal senso Telerama lo aveva dato già due mesi fa, mettendo in guardia i suoi telespettatori, con un servizio che fece arrabbiare molto nelle varie chat Telegram il fantomatico Logan Smith, tanto da realizzare con voce meccanica un video che provava a confutare le tesi esposte da Telerama. A distanza di due mesi dalla messa in onda del servizio è accaduto quanto avevamo sospettato. Da qualche giorno infatti numerosi utenti segnalano l'impossibilità di ritirare i propri fondi, facendo emergere una situazione critica di abusivismo finanziario che ha portato Consob a intervenire duramente. Dietro a questi investimenti ci sono storie drammatiche di persone che magari in un primo momento ci hanno guadagnato e pensando di poterlo fare ancora hanno investito i guadagni e molto altro ancora. La truffa si aggirerebbe intorno ai 420 milioni di euro. Consob ha oscurato sei siti, piattaforme non autorizzate e tra queste c'è la più gettonata 2139 Exchange. Queste piattaforme infatti operano senza le necessarie autorizzazioni, violando il testo unico della finanza. Si è trattato del classico schema Ponzi, dove hanno la meglio solo quelli che arrivano prima e ritirano prima, anche se questi sistemi di guadagno possono essere bloccati pure dopo tre giorni. In questo caso sono passati diversi anni. Sale così a 1140 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.